Ciao sorelline, ciao sorelline, vi ho fatto vedere prima da mangiare di cani perché sennò c'è questa bollona, mi ha fatto fare qualche cosa sicuro. Allora facciamo video spesa, come sempre le prime cose vi faccio vedere l'uovo, l'uovo che la domenica è solo io faccio le tagliatelle o le pappardelle a mano. Ci sono una, tre, due, poi tre, voilà. Ok, poi questo qui ha la bicocca, confettura extra alla bicocca. Oggi è un tepperino per stare a chi fa macello? La pancetta. Ma che l'avete comprata? Questa pancetta che io sto cercando di immagrire, eh, questa pancetta qua, la pancetta, pancetta, due, vediamo quanto ci stanno, ha tre pancette, poi dopo vedremo se ci stanno ancora. il pane, il pane che abbiamo stridolato, il pane morbido, l'arangiata zero, e l'altra confettura, questa qui è la pesca, l'altra era? La pesca? No. Ah, era la bicocca, questa è la pesca. Ah, questo è buono, cioccolato, che ci si mette le giorlatte. La, il salame dolce, senza mutile e senza lattoso. Ah, potrei mangiare pure io, però sulla te la non ce l'ho. Poi, le cipolle. l'olio d'oliva, uno e due, poi questo è il pomodoro che posso mangiare io, vabbè che non mi fa l'acido, l'ho provato e posso mangiarlo con il pomodoro lì, poi a limonata e poi l'olio e un cettosino, l'olio, cettosino senza lattosio, adesso blocco perché metto a posto per levare questa roba se non so dovremmo mettere le altre cose e poi ritorno, ecco sono ritornata, oh, rifai il numero ora che è, Allora questa è l'insalata di mare che mangiano oggi a pranzo, poi due e poi l'insalata che si è preso con il vino, l'insalata che mi sono presa io, no, l'insalata che si è preso, due, il pane 5,59 euro, il pane affettato, morbido, poi abbiamo comprato un sacco d'affitto, lo speck che a me mi piace più lo speck del prosciutto, l'altro speck, il salame, pancetta arrotolata, pancetta arrotolata, pancetta arrotolata, a me mi piace questa roba, prosciutto speck, il bacon, salame, aspetta, 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 dopo lo dico io, lo dico, formaggio questo qui, se no mi schia giù tutto, prosciutto, 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 mortadella, questo è quello lì, se mi hai provato, quando mi lo dici vuole, due minuti, lo so, vabbè, tu sei presto, poi questo qua, questa casca giù tutto, 9 minuti, eh? 9 minuti, che 9 minuti, ah, lì, 9 minuti, questo qui, però a me non mi piace tanto, vorrei mangiare pure dietro, non mi piace, salame, salame, questa casca giù tutto qua, casca giù, casca giù, casca giù, casca giù, casca giù, e come un salame, si? Eh, la pasta, la pasta, la, il pane, il pane, il pane, il pane, formaggio, casca giù tutto, formaggio, la mia, salate, che mi piace, salame, si, casa, vediamo che qua, questo per levare i peli, e con la dieta per merenda, posso mangiare una merendina, allora l'ho comprata, adesso voglio ritirare, voglio ritirare, prendiamo un'altra busta, aspettate, ecco, sono ritornato, allora, questo qui, paresini, pure questo posso mangiare per merenda, sono varietà per mangiare, poi gelato, per mangiare loro questo gelato, questo posso mangiarlo pure io, portarchito, l'hamburger, il latte, per loro, per dietro, per dietro, ecco, e secco di frutta, bio, vediamo come viene, questo qui, non ci dovrebbe sta le grugi delmente, questo buono, però non si può mangiare dieta, purtroppo. Le patatine pure. Ma come se ne avevano le patatine al rischio, non si poteva per far dieta. C'è anche le patatine, sono magre e un'altra di questa. Ritorno fra un po'. Ok, sarò ritornata. Un'altra volta il formaggio, questo qua, poi mi sono comprato a primo sale, che mi piace tanto il magro, è sempre 25g di formaggio, poi questo qua, quello con questo posso fare merenda, quello non tutto eh, una cosa la posso mangiare, la mozzarellina senza lattosio, il cessito senza lattosio, poi ho comprato questo formaggio qua, ho comprato pure questo, non è senza lattosio, però ce lo sono a dieta. La panna, l'ho messa a rigoggiare, stava dritto l'ho messa a rigoggiare, poi lo zucchero, l'ho messa a rigoggiare, poi lo zucchero, l'afficiano, 2, 3, un'altra volta lo speck, questo vuole fare la pizza, se vuole fare la pizza oppure se fate il timbalo, vanno perché viene al menù acquoso, la mozzarella viene acquosa, due rosette, come due? ci sono circa sei, ma no, queste due, una birra e il pane, due mozzarelle, due patti di mozzarella, un altro pane, perché è un bel pacco di cracker, che ci sono tutti i pacchetti dentro, perché io tanto quando mangio questo qua, devo mangiare un pacchetto di questo, e più l'insalata. eccomi un'altra volta, allora questa qua è yogurt drink banana, soltanto che è vuoto, e adesso me lo buttai via quel lino perché l'ha bevuto, guarda che polla che c'ho, l'ha bevuto, ok, poi c'è la Pepsi di Rachele, la Pepsi, poi c'è i cerotti, poi questa c'è che è caramel macchiato, dopo lo voglio assaggiare questo qua, poi ci sono due birre moretti, e eccomi, mortatella, 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 prosciutto, salame, si trovate un secondo? ecco, ah, questa è la porchetta, la porchetta che fa la grippa, ecchi, pochetta tuscana, poi, i ghiaccioli, i venti ghiaccioli, mettete subito dentro, perché penso c'è qua, mi fa caldo, ho già morì, stammattina, alle sei e un quarto, stavo a venti ghiaccioli, queste sono le tovagliette di carta, quelle che ci mangiamo, che, sono le tovagliette di carta, che sono le tovagliette, e sono 180 tovagliette, e le mettiamo per pranzo, ah, ho finito, non potevo comprare, questo manca uno, c'è questo, l'ha bevuto, ecco, ah, se l'hai zuffato, ora chiedi, ok, questo qua, che ti sa, già l'ha bevuto, poi c'è l'olio di semi vari, due bottiglie, poi c'è questo qua, lo mettete nel concilatore, va nella granita, che viene da morata, e cinque bottiglie di sugo, ok, abbiamo finito tutto, no? Sì. E adesso è ora dello scontrino, che, vediamo, qua giù, prendiamo, è ora dello scontrino, non lo so se si vede, 150 e 62, ok, grazie per la visione, se volete venire a salutare, volete venire qua dietro, e abbassate. Buongiorno a tutti, ciao! Ok, per questo video è finito, spero che vi è piaciuto, mettetevi tanti like, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi pure al mio secondo canale, che sta qua sotto come link in evidenza. Ciao, al prossimo video! Ciao, al prossimo video! Ciao!